Cagliari affronta. Saranno Piero Marras, Pago, Diana, Puddu, i collage e i giocatori della storia del Cagliari Calcio, i protagonisti della settima edizione di Calcio, Musica e Solidarietà. L'occasione per festeggiare la salvezza della squadra di Ranieri che sarà e non poteva essere altrimenti l'ospite d'onore della serata in calendario lunedì prossimo nell'arena Grandi Eventi della Fiera Internazionale della Sardegna. Stamane la presentazione dell'atteso appuntamento, il cui ricavato sarà utilizzato per un progetto davvero speciale. Diciamo che i protagonisti sono due. Il grande protagonista è naturalmente il ricordo di Gigi Riva, di Gigi Riva che amava e desiderava la sua statua a Cagliari, nella sua città in Sardegna, e il grande protagonista, il secondo grande protagonista è proprio Claudio Ranieri perché Claudio Ranieri ha compiuto 5 miracoli in Sardegna, a Cagliari, l'ultimo che si è consumato nei giorni scorsi e soprattutto Claudio Ranieri perché è stato l'inventore di questa manifestazione Calcio e Solidarietà nata appunto 33 anni fa. E questa volta chiudiamo definitivamente Calcio e Solidarietà con questa iniziativa che vuole regalare a Riva e ai compagni dello Scudetto una statua. Voglio fare un auspicio che a questa bellissima manifestazione che chiude un ciclo meraviglioso ci sia il pienone assoluto. È una festa e deve essere celebrata con grandi adesioni, quindi non mancate la statua di Gigi Riva, per Gigi Riva sarà un monumento che resterà nel tempo, sfiderà il tempo così come la figura di Gigi sta già facendo.